Buonasera e benvenuti a tutti. Sono molto contenta e onorata di essere qui oggi e di vedervi tutti interessati alle prospettive della decarbonizzazione. Prima di tutto vorrei chiedervi di perdonarmi per il mio scarso italiano. La vostra lingua è così bella che padroneggiarla richiede molto talento, ma prometto di continuare i miei sforzi. Lo scopo di questa terza edizione del convegno è di presentare le ricerche comparative della Lewis Business School sulla transizione energetica e più specificamente sullo sviluppo delle energie rinnovabili confrontando la situazione tra l'Italia, la Francia, la Spagna e la Germania. Il nostro obiettivo è quello di mettere in evidenza le diverse politiche energetiche in Europa e capire meglio la sfida per rispondere al seguente trilemma. Primo, costruire la sovranità energetica europea. Secondo, garantire la competitività necessaria alle imprese europee per crescere di fronte alle due superpotenze verdi, la Cina e gli Stati Uniti che hanno investito molto nella transizione energetica. Terzo, decarbonizzare per combattere il cambiamento climatico che sta diventando sempre più evidente e costoso. Lo sapete che secondo il nuovo rapporto State of Global Climate 2023 della World Meteorological Organization, il 2023 è stato senza ombra di dubbio l'anno più caldo mai registrato nel 174 anni di osservazioni. Lo sapete che nel 2023 i costi delle catastrofi climatiche ha raggiunto il 6,5 miliardi di euro nella sola Francia. Questa cifra aumenta di anno in anno e preoccupa le compagnie assicurative. Secondo Aon, le perdite economiche globali hanno raggiunto il 380 miliardi di dollari nel 2023, ma soprattutto le maggiori perdite assicurate di sempre sono state registrate qui in Italia. Non solo, c'è anche Slovenia, Croazia, Grecia o Nuova Zelanda. Certamente la situazione è complessa. Per questo è importante essere lucidi nel valutare la sfida, ma ancora più essere determinati a comprendere le immense opportunità del nuovo paradigma ecoenergetico che vedremo in un video. Avremo il piacere di scoprire alcuni esempi concreti di imprese impegnate nella decarbonizzazione e le politiche ESG che permettono di affrontare questa sfida della decarbonizzazione senza rinunciare alla crescita che può essere chiamata crescita verde. E per questo motivo che la nostra organizzazione 5T, educazione, collabora con la Lewis Business School per concepire un programma di formazione per preparare i leader, i protagonisti, sia privati che pubblici, alla transizione energetica, quindi alla crescita verde, alla efficienza energetica, alla economia circolare e rigenerativa. Questo programma si chiama, come si è detto, 100 leader per il pianeta. Sarà offerta da prossimo gennaio la prima classe di studenti e abbiamo alcuni di voi che hanno già espresso il loro interesse e iniziato a registrarsi. Prima di dare la parola ai nostri ospiti, che ringrazio molto per la loro presenza, ricordo solamente brevemente che 5T, che significa Energy, Energy Efficiency, Environment, Environment, Economy and Territories, è stata fondata da me in Francia più di 13 anni fa per sensibilizzare tutti gli stakeholder alle trasformazioni veloci che impattano il nostro mondo e i nostri sistemi economici. E 5T è una fondazione non profit che organizza da più di 13 anni in tutti i mondi, della Rochelle a Tunisia, dalla Cina alla Spagna, conveni che riuniscono esperti, professori, politici, scientifici, start-up, ricercatori, grandi dite e ONG per riconciliare la crescita economica e la necessità di preservare il pianeta e di decarbonizzare in un modo creativo, ottimista e innovativo. Prima di concludere ringrazio Gianni Latanzio, anche l'onorevole Fabio Porta e certamente Matteo Caroli, Dean della Louise Biennial School, che sta con noi oggi. Senza questo tipo di cooperazione ad alto livello, non è possibile comprendere a pieno tutte le trasformazioni in atto nel mondo per raggiungere il net zero o quello che chiamiamo la neutralità carbonica entro il 2050. Grazie e buon convegno a tutti. Grazie.